che stai con questi morti, ma che è stata? che ha già fatto un uai nero? ah te? gli tengo tre figli, tu lo sai? eh beh, i figli sono benedizione di Dio però le fanno accampare, le fanno mangiare le mangiano tre, le mangiano quante, le mangiano quante, le mangiano cinque fatta zitta che ha già fatto amore con Muglierma ha già sbagliato qualche giorno quando è... come si dice quando è femmina? quando è feconto e quando non è feconto bravo, ho sbagliato il metodo Gino Krauss insomma Muglierma ha incitato la volta, ha spettato quarta figlia e chi è stato su Gino Krauss? è Gino Krauss, è un metodo anticoncezionale o Gino Krauss ah insomma Muglierde ne prende un'altra volta eh, dici ma questo come a cavallo ma quello guarda, quello è il sistema più sicuro è sempre quello del riservativo là, come si chiama? è il riservativo? no, è quello cosa, come si chiama? profilattico profilattico, quello è il più sicuro eh, eppure bato ma con chi lo stai 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 oh nonno, come stai? eh, pensa che la farmacia che ha fatto, la farmacia Gaudiana si chiama? eh? farmacia Gaudiana si chiama? da là non ho comprato mai i riservativi là perchè? perchè sono tutti bucati si bucano e si bucano è vero, a me si piegano pure ahahahahahahahahah Ahahahahha!